Il progetto Passi d'Accoglienza è un progetto, diciamo il nome è evocativo delle azioni, poi in questa fase storica c'è molto bisogno di costruire relazioni solidali tra le persone che fanno parte di una comunità. Le relazioni solidali fanno parte dell'accoglienza, cioè della modalità che abbiamo di accogliere non soltanto lo straniero che arriva ma il disagio delle persone. Quindi la Mensa di Solidarietà Incontri, la Mensa di Solidarietà di Cantù, il Centro di Ascolto Caritas di Cantù e due altre associazioni canturine che sono La Soglia e Spazio Donne si sono messe insieme per scrivere questo progetto che ha vinto un bando, il Bando Volontariato 2012 ed è stato finanziato. Bando Volontariato 2012, dei CSV regionali e della Fondazione Carico. Quindi la prima azione di questa serie di azioni che durerà tutto l'anno fino a settembre 2013 che prevede dei corsi di formazione per i volontari, azioni di sensibilizzazione nelle scuole superiori, una mostra fotografica e diverse altre iniziative fra cui un corso di cucito coinvolgendo donne straniere sul territorio. La prima azione, dicevo, è in occasione del decimo compleanno dell'associazione che gestisce la Mensa di Solidarietà, appunto l'associazione Incontri, la Notte di Senza di Mora a Cantù. Quindi l'iniziativa è la Notte di Senza di Mora. Però questa iniziativa già esiste appunto come dicevi giustamente da dieci anni ed è stata organizzata a Como per esempio. Esatto. Però è la prima volta che viene organizzata a Cantù. Esatto. In realtà l'iniziativa nasce una decina di anni fa da Terre di Mezzo, il giornale di strada a Milano e ad oggi, cioè questa notte, dormiranno in strada in una quindicina di comuni, di capoluoghi di provincia in giro per l'Italia, soprattutto su Milano, Roma, Treviso, eccetera, eccetera. Storicamente questa è l'ottava edizione che si fa in provincia di Como, le prime sette sono state fatte tutte a Como. Appunto, essendo che è un coordinamento provinciale che ha sempre dato vita a questa iniziativa, per quest'anno sfruttando l'occasione del decimo compleanno dell'associazione Incontri, si è deciso di farla girare, migrare, nelle tre città dove c'è una mensa di solidarietà, che sono Como con l'associazione Incroci, Cantù appunto dove siamo con l'associazione Incontri ed Erba dove c'è l'associazione Mani Aperte. Vero simile pensare che l'anno prossimo potrà essere a Erba. Per quest'anno siamo a Cantù. La Notte di Scienza di Mora è prima di innanzitutto una giornata di sensibilizzazione, quindi una serie di iniziative messe in campo per far parlare di questo, della grave marginazione, della grave povertà che colpisce tantissime persone, stranieri e non, e che molto spesso è taciuta, diciamo, non balza l'onor della cronaca, come si dice. E domani mattina quando vi sveglierete, dopo aver dormito qui? Non mi ha anticipato però, perché questa notte, dopo la cena e un concerto di Scanzi in Piazza Gain, si dormirà qua in piazza. Siamo circa una quarantina di volontari, scout, altre associazioni che vogliono vivere queste esperienze, più che dare la disponibilità, perché è proprio un'esperienza che ti fai. E si dormirà qua, in piazza Garimani. Il significato di questo dormire in piazza è, almeno, diciamo, è molteplice, cito soltanto due dei significati che sono i più importanti. Uno è davvero un gesto di solidarietà, nei confronti di chi una casa non ce l'ha ed è costretto a vivere questa situazione tutti i giorni dell'anno. Il dormitorio c'è solo a Como, sappiamo che è pieno, sappiamo che per il grande freccia, il tendone del grande freccia, quindi insomma, è una problematica molto sentita e sono tante le persone che non riescono neanche ad accedere al dormitorio, e dormono davvero in strada o in capannoni, palazzi abbandonati. Quindi, da un lato, un gesto di vicinanza nei confronti di queste persone e qualcuno probabilmente resterà qua a dormire con noi, per una sera non da solo o con una compagnia nuova. Dall'altro lato, quello di attirare l'opinione pubblica, in questo caso vi ringrazio anche per questa intervista, su questo fenomeno, quindi di nuovo fare parlare, attirare l'attenzione, puntare i riflettori su questo fenomeno. C'è bisogno di parlarne, i volontari delle associazioni che lavorano con la grave marginazione fanno un grande lavoro, ma non sono mai abbastanza, perché il lavoro è davvero tanto, e soprattutto teniamo conto che le varie mense sono aperte 365 giorni l'anno. Domani mattina ci sveglieremo e probabilmente faremo colazione tutti insieme, prima, in questo caso, chi ha dormito qua e una casa ce l'ha, prima di tornare a casa, e immagino sfinito da questa notte dove si dormirà molto poco, forse avrà la fortuna di poter dormire fino a mezzogiorno, fino al pomeriggio, in un letto. Purtroppo questo non è valido per tutti, qualcuno si alzerà e condurrà la sua giornata in strada, è molto faticoso per chi è in queste situazioni. Io sono volontario della mensa di Cantù, della fondazione, da quando eravamo in Cascina Cristina Fecchio, e quest'anno, che è un po' speciale perché si festeggiano dieci anni della nostra mese, è stata fatta questa proposta, come sapete è sempre fatta a Tomo, ma quest'anno viene portata a Cantù. E' chiaro che mi sembra un segno, una provocazione, sarebbe bello se fosse una provocazione, cioè nel senso che in un contesto come questo, dove tanti giovani e tanti giovani adulti passano il loro tempo, che ci sia un momento in cui uno ha chiamato a riflettere o a porsi il problema, a farsi interrare dal problema, penso che sia qualcosa di così, ecco nel piccolo. Chiaro che, conoscendo alcune persone che sono costrette a fare questa vita, è, come dire, san cosciente che sia, che non sia niente, no? Cioè, che sia un gesto che poi chiaramente ciascuno se ne torna nelle sue case, la mattina si fa colazione, il giorno dopo dorme, va al lavoro, come dire, sereno e rilassato. Chi vive la vita della strada, no, non è certamente questo, perché si trova a dover sopportare. Però, ecco però, forse è più un gesto rivolto verso gli altri, verso la città, insomma anche grazie un po' al lavoro che voi fate, di risonanza con la stampa, può essere un mettere a tema.